Sì, la cravatta, andiamo con gli stessi gusti, forse. La musica. Ma magari andiamo anche in vacanza negli stessi posti. Io vado a sciare, preferisco la montagna, non so, in Svizzera. No, io preferisco il caldo, sinceramente. E a proposito di scarpe, invece, ti scamosciate o di cuoio? È uguale, basta che siano belle e durino. Tesoro, fai attenzione, non mi capisterai le scarpe. Scusami, piccola. Le annotate, signorini, sono belle. E sicuramente abbiamo un gusto simile per le travaglie. Grazie.